Stasera effettueremo una missione di addestramento al volo notturno con due elicotteri A129, la durata sarà di circa un'ora e ci addestreremo l'utilizzo delle occhiali NWG, ci riferiremo in zona di Udine, poi in Pedemontana per fare il ritorno a Casarsa. L'addestramento notturno per noi è importantissimo, è fondamentale per il nostro approntamento e per essere pronti ad utilizzare l'elicottero in qualsiasi condizione, specie di notte. Siamo pronti per la messa in moto, metteremo in moto e dopo di che effettueremo la nostra missione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ok, questa è la missione a mille metri di stanza sul target. La direzione di attacco me la dai tu? Direzione di attacco è 250. Siamo a 400 piedi. Siamo a 300 piedi. Siamo a 400 metri ora, 370. Ok. 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 Ok.